Un attimo, un attimo, un attimo da studio qui ci stanno passando i giocolieri, una domanda al volo per i giocolieri. Ragazzi siete carichi per questa partita di stasera? Carichissimi, come al sorti? Assolutamente sì, andiamo in vacanza domani, prendiamo l'ultima domanda, ma le fighe? Stanno arrivando, stanno arrivando. I giocolieri! I have traveled and seen, but as long as you are with me, there's no place I'd ever been. I would wait forever, exalted in the sea.